Putin ha avuto un varresto cardiaco? Cosa sappiamo, cosa no? Questa settimana diverse testate giornalistiche hanno riportato la voce secondo cui il presidente russo Vladimir Putin avrebbe subito un arresto cardiaco, collassando nella camera da letto presidenziale. I rapporti aggiungono che il leader russo, 71 anni, ha dovuto essere rianimato e portato in un'unità speciale di terapia intensiva dopo che la sicurezza lo aveva sentito cadere a terra. La salute di Putin è stata oggetto di voci per anni, e la segretezza del Cremlino ha lasciato correre senza limiti la speculazione. Interviste e incontri registrati con altri leader mondiali sono stati spesso esaminati alla ricerca di indizi che suggerissero se potesse essere malato o malato terminale. Quest'ultimo rapporto ha attirato l'attenzione dei giornalisti di tutto il mondo. Il titolo della rivista indiana Business Today recitava il presidente russo Vladimir Putin ha un arresto cardiaco e crolla in camera da letto. Rapporto. Vladimir Putin, resuscitato dopo aver avuto un «arresto cardiaco», sostiene il canale Telegram, ha scritto il tabloid britannico Daily Mirror. The New Statesman, una rivista britannica, ha ripubblicato un articolo di giugno 2022 intitolato e Vladimir Putin è morto? Tuttavia, il rapporto proviene da un canale di social media che è stato collegato a una serie di voci infondate e talvolta incredule su Putin. Il generale SVR, un canale Telegram, ha condiviso diverse storie sulla salute di Putin e sulla sua presa sul potere, inclusa la storia del suo arresto cardiaco. Un post del 23 ottobre 2023 affermava che gli agenti avevano trovato il presidente inarcato convulsamente mentre giaceva sul pavimento, con gli occhi al cielo e è stato trasferito in una stanza appositamente attrezzata nella sua residenza, dove erano già presenti le attrezzature mediche necessarie per la rianimazione. Stato installato. Il generale SVR ha proseguito affermando che mentre le condizioni del presidente si sono stabilizzate ed è sotto costante controllo medico, l'incidente l'ha seriamente allarmato la cerchia ristretta del presidente, nonostante il fatto che i medici curanti avessero già avvertito che Putin era molto malato ed era improbabile che vivere fino alla fine dell'autunno. La probabilità che il Cremlino offra informazioni dettagliate sullo stato di salute di Putin sembra scarsa, data la sua segretezza, il suo atteggiamento nei confronti dei critici del presidente e gli effetti che la rivelazione di tali informazioni avrebbe sulla diplomazia internazionale. Anche se un arresto cardiaco inaspettato non è implausibile, il leader russo è apparso in pubblico e davanti alle telecamere la scorsa settimana, apparentemente in buona salute, presiedendo una riunione del Consiglio di Sicurezza a Mosca venerdì e partecipando a un torneo di box nella città di Perm, negli Urali, giovedì. Putin, in teoria, potrebbe essere malato e altre fonti più affidabili hanno mantenuto viva questa speculazione. Tre leader dell'intelligence hanno dichiarato a Newsweek nel luglio 2022 che un rapporto riservato degli Stati Uniti affermava che Putin era stato sottoposto a cure nell'aprile 2022 per un cancro avanzato. Lo stesso anno, il Mosca Times ha citato un rapporto investigativo del media russo indipendente Proect Media secondo cui Putin era accompagnato da Medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide, nei viaggi nella sua residenza a Soci dal 2016 al 2019 e che i medici potrebbero aver eseguito intervento chirurgico, su di lui nel novembre 2016. Ex dipendente della NSA si dichiara colpevole di aver tentato di spiare per conto della Russia. Uno specialista informatico che ha lavorato per un breve periodo presso la Top Secret National Security Agency NSA degli Stati Uniti si è dichiarato colpevole lunedì di aver tentato di spiare per conto della Russia, ha detto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Iare Sebastian Dalke, 31 anni, ha trascorso meno di quattro settimane a lavorare presso la NSA, l'Agenzia di raccolta di informazioni di intelligence del governo degli Stati Uniti, prima di lasciare improvvisamente l'incarico alla fine di giugno dello scorso anno, adducendo motivi familiari. Nelle poche settimane trascorse alla NSA, ha stampato documenti Top Secret e, dopo aver lasciato, le offerte in vendita in comunicazioni online crittografate a un individuo che credeva fosse un agente russo, ha detto il Dipartimento di Giustizia. Dalke in realtà aveva a che fare con un agente dell'FBI sotto copertura. L'ex specialista informatico si è dichiarato colpevole davanti alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti di sei capi di imputazione per aver tentato di trasmettere informazioni riservate sulla difesa nazionale a un agente di un governo straniero. La sentenza è stata fissata per il 26 aprile 2024. Dalke rischia la pena massima dell'ergastolo. Il membro del partito Yabloko e Novaya Gazeta chiedono che venga aperta un'indagine sul parlamentare russo che ha affermato che coloro che non sostengono Putin dovrebbero essere l'annientati. Dopo le osservazioni del deputato della Duma di Stato russa Andrei Gurulev secondo cui i russi che non sostengono Putin dovrebbero essere e se non isolati, almeno annientati, sia il membro del partito Yabloko Boris Vyshnevsky che il quotidiano indipendente Novaya Gazeta hanno chiesto di indagare su di lui. Gurulev ha rilasciato questa dichiarazione in una puntata del 15 ottobre del talk show serata con Vladimir Soloviov. Ha detto che l80% della popolazione russa sostiene Putin, ma il resto è smarcio. Vyshnevsky già detto che i commenti di Gurulev equivalgono a un appello pubblico all'uccisione di persone spinte dall'odio politico e vanno contro la Costituzione russa. L'obiettivo finale di tali dichiarazioni del signor Gurulev potrebbe essere, credo, quello di incitare la repressione di massa nella Federazione russa e la guerra civile, ha aggiunto nella sua petizione al procuratore generale russo. Novaya Gazeta ha anche avviato una petizione affinché Gurulev venga indagato, affermando che stanno chiedendo l'omicidio, annientamento, di circa 29 milioni di russi, cifre paragonabili alle perdite russe nella Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, Gurulev ha detto che si riferiva solo a coloro che chiedono l'immediata cessazione dell'operazione militare speciale. «È questa l'opposizione o i nostri nemici? Probabilmente sono nemici, no? E se sono nemici, dovrebbero essere trattati come nemici? Cosa dovremmo fare con loro? Semplicemente m'guardarli o distruggerli?» Le autorità russe riscrivono il paragrafo sulle deportazioni staliniste nel libro di storia in seguito alle critiche delle Repubbliche del Caucaso settentrionale. Il Ministero dell'Istruzione russo ha modificato un paragrafo sulle deportazioni delle minoranze etniche sotto Joseph Stalin nel suo nuovo libro di testo di storia generale per gli alunni della seconda media. Uno degli autori del libro, il rettore dell'Istituto Statale per le Relazioni Internazionali di Mosca, Anatoly Torkunov, ha dichiarato alla RBC che il Ministero ha inviato la nuova versione del testo al Congresso del Popolo di Caracciai per la revisione. Il resoconto originale delle deportazioni contenuto nel libro di testo scatenò una reazione negativa in Carai-Circassia così come in altre repubbliche del Caucaso settentrionale. Si legge quanto segue. Alla luce della collaborazione con gli occupanti da parte dei Carai, dei Kalmix, dei Ceceni, degli Ingusci, dei Balcari e dei Tartari di Crimea, il Comitato di Difesa dello Stato decise nel 1943-1944 di eliminare le formazioni statali di questi gruppi all'interno dell'URSS e di assoggettarle alla punizione collettiva, il reinsediamento forzato deportazione nelle regioni orientali del paese. Il risultato fu la repressione non solo di banditi e complici del nemico ma anche di tante persone innocenti. I reinsediamenti furono costretti a sopportare molte prove e difficoltà. La giustizia nei loro confronti fu ristabilita dopo il 1953. La nuova versione del paragrafo reciterà. Una pagina tragica nella storia della Grande Guerra Patriottica fu l'espulsione di massa di popoli nel 1941-1944 che, nelle condizioni di vicinanza al fronte, furono accusati indiscriminatamente di tradimento dal Comitato per la Sicurezza dello Stato. Dodici gruppi etnici sono stati reinsediati con la forza deportati, perdendo non solo la loro terra natale ma anche l'autonomia nazionale territoriale di cui godeva la maggior parte di loro. In un periodo di tempo estremamente breve, centinaia di migliaia di persone furono inviate sotto scorta dall'altra parte del paese, in Siberia e in Asia centrale. Oltre ai singoli rinnegati e traditori, soffrirono anche numerose persone del tutto innocenti e fedeli alle autorità sovietiche, compresi coloro che combatterono nell'Armata Rossa. I reinsediamenti furono costretti a sopportare molte prove e difficoltà. La giustizia è stata gradualmente ripristinata tra il 1957 e il 2014. Nell'URSS, e successivamente nella Federazione Russa, furono condannate le repressioni contro interi gruppi etnici e furono sviluppate misure per garantirne la completa riabilitazione. Nonostante la modifica del testo, il Ministero dell'Istruzione russo ha sottolineato che la versione precedente del libro di testo è pienamente conforme agli standard educativi statali federali per l'Istruzione Secondaria Generale. Il Ministero ha affermato di aver scelto di modificare il libro perché la storia del reinsediamento forzato di membri di 12 gruppi etnici durante la Grande Guerra Patriottica costituisce una delle pagine più drammatiche della storia nazionale moderna.